Chi lavora ottiene sempre una ricompensa. Questa è una ricompensa. Arrivederci! Devo! Arrivederci! Nesura! 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 Now let's see on our segment. Sì. Devo sbrigarmi Sono i Segugi Infernali Se ne sono andati Chi lavora o tiene sempre una ricompensa Chi lavora o tiene sempre Si sono avvicinati Come se qualcosa li stesse controllando Ci siamo quasi Siamo arrivati Come posso ripagarti Ci rivedremo? Vivo con mia nonna Preferirei non farla agitare troppo Cos'è che la farebbe agitare? Tutto quanto Tranne pregare insieme Ma conosco un vecchio mulino Tranquillo e appartato Esatto! Ma la gente dice che è infestato I fantasmi non oserebbero disturbare un Witcher E gli altri staranno alla larga per paura dei fantasmi Bene, ci vediamo domani dopo il tramonto Porta del vino Io mi occuperò del cibo Io mi occuperò del cibo Aiuto, ti preghi Aiuto, ti preghi Aiuto, ti preghi E gli altri staranno alla larga per paura dei fantasmi Grazie a tutti. Parla! 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 Finalmente! Questo posto mi fa venire la pelle d'oca Hai portato il vino? Grazie Ora non ho più paura Vuoi farmi vedere il mulino? Ma certo! Tutto quello che vuoi Prima le signore Ma potrei sporcarmi il vestito nuovo? I Witcher hanno delle soluzioni anche per quello Attento dove metti i piedi, idiota! Che c'è? Qualcosa infesta nuovamente il vecchio mulino Dovremmo assoldare un Witcher o qualche altro mago per controllare Non ci sono mai quando ti servono Vedrai I mostri di oggi dureranno soltanto fino a domani Giusto Perché mettere qualcuno in pericolo? Che c'è? Per verstevi Grazie a tutti. 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 Parla. Grazie a tutti. Un tè... Amabili fiori. Grazie a tutti.